La segura capita che saresti già invitato il prossimo anno a mettere quello, ma attenzione! Altrimenti viene gamba rotta, cagionezza! Non dovresti venire da solo, dovresti portare la Luciana, l'Istizetto... No, ma quello... Aspetta, perché è qui lo sculto, vorremmo dare anche a lei il premio di simpatia... Ma sono sicuro che ne sarà felice! Ma vorremmo anche che così si scusasse un attimino con noi... Ma mi ha fatto un favore pazzesco, se no mi avreste mai dato il premio di simpatia... L'unica cosa buona che ha fatto nella sua vita! Ci contiamo, Fabio! Ci proviamo! Quindi diamo l'appuntamento al prossimo anno... Con la consegna del kit in mantello, che è proprio ideale con questa temperatura... Non lo metterà, anzi ce lo metterà! Simuliamo, sì, per stavolta! Simuliamo! Il cappello, il medaglione, la sciarpa con i colori bianchi e blu... Non diciamo la forma di investitura perché la faremo il prossimo anno... No! Sappi che domani mattina la cerimonia avrà fra i premiati... Gli seguiti di presidente della regione Alberto Cirio, quindi con altri... Gli altri nuovi cavalieri... Ormai dice... Io posso parlare così...